Non può essere sicuramente cambiamento, non può essere rappresentato il cambiamento da chi ci ha governato o da quello che resta i 15 anni di governo, né tanto meno dagli oppositori dell'ultima ora quelli che si vedono solo in campagna elettorale, solo negli ultimi due mesi o quelli che avendo interrotto alcuni rapporti con l'amministrazione uscente ora si dicono contrari il cambiamento è testimonianza, impegno, presenza sempre e comunque il cambiamento non può essere una bandiera sventolata in base a periodi o favori più o meno concessi non è questo il cambiamento